Cresce la famiglia dei volontari del Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta, ben 15 i neo-volontari che hanno superato l'idoneo esame d'ingresso. Molto compiaciuto è il Presidente Nicolo Piave, che ha evidenziato quanto è utile il ruolo dei volontari della Croce Rossa. Grazie alla formazione, opere di volontariato disinteressato, energie e tempo speso, i volontari si battono per il miglioramento delle condizioni di vita dei più deboli. 15 i cittadini che hanno deciso di aderire a Croce Rossa Italiana, di svolgere il regolare corso di reclutamento come previsto alla normativa e superare brillantemente l'esame. Ieri 15 i cittadini hanno superato l'esame e sono entrati a far parte della nostra famiglia per poter svolgere le attività consone al loro ruolo, quindi le attività sociali, le attività di supporto alla segreteria, le attività di fundraising, ma soprattutto avere accesso a tutta una serie di corsi utili a poter sviluppare competenze e attitudini personali per essere sempre più vicini ai vulnerabili. Quindi si partirà con i corsi di primo soccorso, attività di ambulanza, attività di protezione civile, tantissime attività che possono essere messe a disposizione dei cittadini che hanno bisogno.